Questa è una persona alla fintenza verso la depresione avranno una componente molto grande di oieco nella loro vita Ma io trovo oieco molto statico Se vado lì, mi vengono delle idee brillanti in poco tempo Scusa, statico o estatico? Perché uno è estasi e l'altro è staticità C'è una differenza, ma c'è una grande... Statico E' statico o estatico? Para me è statico, ma l'altro è statico Sì Quando una persona senti oieco come statico e per me Oieco come è statico Ah, quindi lui ha detto è statico Allora, alcune persone lo provano, lo vivono come statico Altre lo vivono come estatico Per cui arrivano lì e si sentono stasiati da questo Lui, parlando di se stesso, si riferiva statico Sì Sì, sono delle distinzioni importanti perché Come la volta scorsa abbiamo avuto proprio l'esempio di come Una persona appena entrato in un ego si trova proprio bloccato, statico E vede proprio questa trasformazione dallo statico allo estatico Sì, tutti gli odus sono in un certo modo paradossali quando si cerca di spiegarli E poi se crea un po' di confusione non cercare di capire cosa significa esattamente Ma non significa un qualcosa di esatto L'unico termine, quello più preciso, è il termine scientifico di attrattore estraneo E che cosa è questo? È un qualcosa che non puoi dimostrare che si trova lì Ma ci deve essere perché appena si avvicina un qualcosa, quel qualcosa si trasforma o cambia Diversi libri in cui c'è la descrizione di Otturupun I'll just move this so... Even though the back of his head is very handsome So sposto un attimo che se è bella da suo testo dietro Sì, in alcuni libri l'interpretazione di Otturupun potrebbe essere quella di veleno Oppure vada ai tuoi bambini Oppure sopravvivenza spirituale Cosa hanno a che fare l'uno con l'altro? Il dodici Il dodici So Otturupun è il dio della formazione del carattere Un catapulto non può capire la farfalla Un catapulto non può capire la farfalla Un catapulto non può capire la farfalla Il... Il bruco non può capire la farfalla E il... Quello che diventa... La rana? Qual è? Il genino Il genino non può capire la rana Sì, c'è un processo lì proprio di trasformazione Anche se non è del tutto comprensibile, visibile Ma un... Il genino poi... Può diventare una... Una brutta... Un brutto rospo Ma comunque... Bello del suo essere un brutto rospo So gen... Most interpretations... Cuban of Otturupun Look rather negative What was the interpretations? That come from Cuba Ok, molte interpretazioni di Otturupun Cubane E vedo... Possono vedere Otturupun Questi termini Because... One common way you see Otturupun Is the priest dressed in black Telling you what your character has to be Sì, è un'interpretazione molto comune di Otturupun È quella di un... Di un prete vestito di nero Che vi dice come deve essere il vostro... Come deve diventare il vostro carattere Qui c'è... Molto poco... Sostegno... Appoggio... Sulla terra... Su... Come deve diventare il carattere di una persona Qui c'è... Molto poco... Sostegno... Appoggio... Sulla terra... Come deve diventare il carattere di una persona Di schizofrenia incurabile E lui era l'unica persona in un gruppo molto grande che guardava il cliente quando si facevano le sedute E ascoltava il cliente e faceva proprio tutti gli esercizi molto bene E credo che la definizione di schizofrenico incurabile fosse proprio quella che il... Gli genitori non riuscivano a cambiarlo Cioè a non... A far sì che lui non fosse gay E proprio non era del suo carattere quello di essere eterosessuale Cosa avrebbero pensato i... I genitori o comunque il prete poi del paese Invece per me quello che era importante era... Se era capace poi di ascoltare il cliente e... Ascoltare poi i bisogni dei clienti e lui riusciva a fare questo E questo è il turupone proprio nel suo lato più negativo E questo è il turupone proprio nel suo lato più negativo Quello di voler a ogni posto cambiare una persona senza il volere dell'altro E questo viene poi chiamato... Si ... ... ... ... ... ... ...